Situazione Giulianova Patrimonio qui nel comune di Giulianova. L'amministrazione comunale, la maggioranza, ha annunciato che ci sarà un piano di risanamento per risolvere al meglio la situazione della partecipata, ricordando che ci sono 4 milioni di euro di debiti al momento. Sì, si è parlato di piano di risanamento, ma il termine è improprio perché di fatto si tratta di un vero e proprio piano di salvataggio e di dismissione della società Giulianova Patrimonio. I beni della Giulianova Patrimonio sono stati inseriti in bilancio nel triennio del 2021-2023 del comune di Giulianova quindi per un riacquisto dei beni immobili della Giulianova Patrimonio per cui in realtà si tratta di un soccorso finanziario quindi con un piano di salvataggio perché il riacquisto dei beni immobili parliamo di 3.650.000 euro e quindi non c'è un piano di risanamento di continuità aziendale. Quindi siccome questa era una situazione che era già decantata, chiara nel 2019 in piena campagna elettorale ed essendo l'ex mandatario elettorale del sindaco Costantini era all'epoca revisore dei conti della Giulianova Patrimonio ed oggi amministratore unico della Giulianova Patrimonio. Quindi il sindaco Costantini non poteva e lo stesso dottor Iachini non possono dire che la situazione non era loro conosciuta la grave crisi patrimoniale. Quindi la grave crisi patrimoniale già c'era all'epoca nel 2019 quindi la prima cosa che si doveva fare era un piano di risanamento nel 2020 invece cosa è stato fatto? È stato nominato un direttore generale che è andato ad aggravare sensibilmente i costi perché costa 5.000 euro al mese per cui secondo noi c'è anche un danno erariale quindi noi l'abbiamo il sottoscritto, l'ha denunciato da subito già da inizio fine 2019, inizio 2020 in Consiglio Comunale ho criticato e contestato la scelta di inserire il direttore generale il direttore generale va inserito nel momento in cui si vuole far espandere la società si vuole far crescere invece è stata spezzettata e ridimensionata a tal punto che rimarrà solo la farmacia comunale quindi un aggravio inutile di costi e abbiamo perso due anni di tempo che metteranno a rischio i 40 e oltre dipendenti della Giulianova Patrimonio.